Dal 7 al 12 novembre torna la settimana del benessere psicologico. Giunge alla settima edizione l'appuntamento organizzato dall'Ordine degli Psicologi della Campania in collaborazione con l'Anci con l'obiettivo di promuovere la professione. Oltre 250 incontri e consulti gratuiti si terranno nei 136 comuni che hanno aderito alla rete Città Amiche del Benessere. Il tema quest'anno è partecipazione e cambiamento, un'occasione per riflettere con i cittadini sulle nuove forme di partecipazione democratica dal basso. Alla settima edizione ormai è un evento che si ripete, i cittadini lo chiedono, gli psicologi sono attivi nell'organizzazione della settimana del benessere. Quest'anno in particolare abbiamo una novità, l'apertura della settimana del benessere sarà un concerto che si terrà a Palazzo Reale, al Teatro di Corte di Palazzo Reale. Presentato in sala giunta con gli assessori al welfare e alla cultura del comune, l'evento sarà aperto dal concerto Note di Benessere che vedrà esibirsi il sestetto Stradivari dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia nel Teatrino di Corte di Palazzo Reale. L'ingresso è aperto a tutti i cittadini che potranno prenotarsi sul sito www.psicamp.it. La manifestazione è anche un grande appuntamento culturale di discussione, di riflessione e di intervento appunto su a che punto siamo nel livello di convivenza civile e di qualità della vita e che cosa ciascuno nel suo campo può fare e mettere in essere appunto per produrre dei significativi miglioramenti in questa direzione. Oggi finalmente la psicologia fa parte della nostra vita anche un po' di tutti i giorni quindi non si considera più la cura anche psicologica, la cura intesa come attenzione psicologica soltanto come trattamento ma proprio come benessere.